Musica Vediamo le scarpe Se le portavo Non le sono scuosate Sia lodato Gesù Cristo E sempre si ha lodato Via, andate via di qua subito Non fate di più vedere Corsa Capite mazza Sei un premigato stai Questa cotta nuda Quanto vale Casa, poteca Poteca casa A me Mi tolgo qualche cosa Vado alla poteca E mi passa tutto Si è conclusa Cibus Uxenti Quest'evento ormai giunto alla Quarta edizione, quest'anno si è presentato Con tante comparse Circa 143 comparse Dalla più piccola età Sino ad arrivare ai 90 anni Un territorio naturalmente che si è descritto In un contesto storico particolare Cerchiamo di tirare un pochino le somme Cerchiamo di fare un resoconto Assieme al presidente della Proloco di Ugento Francesco Pacella Presidente, buonasera Innanzitutto la prima domanda La facciamo dal carattere generico E' finito naturalmente questo evento Cosa si porta nel suo bagaglio culturale la Proloco? In quali punti possiamo dire che è cresciuta? In quali punti dovrebbe invece migliorare? Innanzitutto grazie per questo momento di intervista Perché ritengo che sia straordinario e importante Il fatto che un evento straordinario Scusate il ripetersi della parola Che abbiamo svolto quest'anno Necessita ovviamente di informativa In tal senso E per questo motivo vi ringrazio per questa opportunità Un evento che ha portato a casa un risultato straordinario Dopo due anni di fermo a causa della pandemia Una quarta edizione Sempre abbiamo deciso di realizzarlo Qui sotto la via salentina Nella zona del Borgo Antico di Ugento Ma proprio perché riteniamo doveroso Ed è giusto che eventi simili Possano svolgersi soltanto nei luoghi Dove effettivamente rappresenta la storia La cultura La tradizione di una popolazione E il Borgo Antico per Ugento ovviamente lo è Ed è questo il motivo per cui abbiamo ritenuto Opportuno ripetere l'evento qui Appunto in via salentina del Borgo Antico di Ugento Che cosa portiamo a casa? Portiamo a casa un risultato straordinario In termini di presenze Ripeto sebbene voglio dire Due anni di fermo ovviamente Ci si aspettava un po' ovviamente di presenza in più E quindi questo è un risultato positivo Abbiamo avuto circa 1265 ingressi nelle due serate E come ben sapete è un evento che si svolge Con gruppi di 30 persone al massimo Compagnati da guide E quindi chiaramente non è possibile Far accedere più persone In maniera praticamente disordinata Quindi per gruppi E quindi non più di tanto si può far accedere le persone Quindi il risultato da questo punto di vista Sicuramente straordinario Ma la cosa straordinaria E' la presenza appunto come si diceva all'inizio Come dicevate all'inizio Di 143 figuranti Con chiaramente Un'opportunità di coinvolgimento Di buona parte della popolazione Anche del Borgo Antico Io approfitto di ringraziare ovviamente I cittadini residenti del Borgo Antico Che hanno avuto la pazienza Non soltanto nelle due giornate Ma anche prima durante tutte le prove Di ospitare praticamente tutta una serie di persone Che qui hanno in qualche maniera Anche disturbato la quiete Durante le prove E quindi li ringrazio per la loro pazienza Per la loro disponibilità Ma non soltanto ovviamente i residenti Ma tutti appunto i figuranti Tutti i musicisti che hanno partecipato Le guide che hanno accompagnato E la nostra figura importante Che ha determinato l'organizzazione appunto dell'evento Con le sceneggiature e quant'altro Che è appunto Sandra De Rose Che voglio ringraziare in prima persona Ma non soltanto lei Ringrazio Enrica, ringrazio Alba Ringrazio tutti i soci della Proloco Che hanno voluto ovviamente collaborare Durante questo periodo E che dire Inoltre tutte le signore Che hanno partecipato nella preparazione Delle pietanze, dei cibi Perché l'evento si chiama cibus Perché vogliamo mettere in risalto Quello che un tempo si cucinava E quindi piatti tipici di questa nostra comunità E quindi la preparazione Che hanno dovuto svolgere Durante le giornate Prima dell'evento Ringrazio l'istituto alberghiero Che ci ha consentito appunto Di fare tutte quante le preparazioni Risultato straordinario Che ha un unico messaggio Quello di fare in modo che Si rivivano le tradizioni del luogo Gli antichi mestieri del luogo Perché durante appunto L'organizzazione dell'evento quest'anno Abbiamo puntato moltissimo A far conoscere Quelli che sono gli antichi mestieri Il cazzolaio con salimme E voglio dire Sono delle opportunità Per far vedere ai nostri giovani Le future generazioni Come si svolgeva un tempo Un determinato mestiere Per fare in modo che si ritorni anche A far sì che rivivano Questi antichi mestieri Curiosità varie Pettegolezze di un tempo Ecco quello che è vissuto Ed è giusto che i giovani Possano conoscerlo E in qualche maniera Capire da dove derivano E notavo appunto come Anche a 90 anni di età Ci sono alcune persone Che si sono messe in gioco Quindi questo comunque È particolare Quasi possiamo dire Questa è la domanda interessante Che io le pongo E che magari può segnare Il tracciato della Proloco Di Ugento un domani Possiamo dire quindi Che sono le vecchie generazioni Che hanno insegnato Ai piccoli partecipanti La domanda che le pongo Quindi possiamo dire Che la Proloco di Ugento Si presenta come tutela Tutela Cercano in un certo senso Di essere quello scrigno Che conserva quello Che ci si tramanda Comunque quello di generazione In generazione Certo è proprio questo Lo spirito Lo scopo L'obiettivo che ha avuto La Proloco in questa occasione Ma non solo in questa occasione Ovviamente in tutto quello Che facciamo E noi Cioè Il messaggio Che vogliamo lanciare Ai tantissimi giovani Di Ugento È quello di avvicinarsi Alla nostra situazione Perché Attraverso appunto Le nostre persone Più anziane Che tramandano queste tradizioni E se perdiamo loro Perché chiaramente Si perderà il tutto Noi vogliamo praticamente Che i nostri giovani Imitino In qualche maniera Imparino Da quello che chiaramente Hanno rappresentato Per questa comunità La popolazione anziana Di questo paese E la popolazione anziana Ha partecipato in maniera attiva Determinata Coinvolta Cioè Ha partecipato con gioia Proprio perché Hanno visto anche i ragazzini Che erano durante il percorso Presenti Non soltanto come figuranti Ma anche come partecipazione E vivono praticamente Quello che è stata La loro esperienza E raccontare la loro esperienza Questo è stato straordinario Quindi Il messaggio qual è? Proloco È formata sicuramente Dalle persone più anziane Del luogo Ma anche Da ragazzi Da giovani Che chiaramente Sentono O vicino Quello che può essere Per loro Una storia Di tradizione importante E quindi Speriamo E ci auguriamo Che comprendono Il messaggio Che abbiamo voluto lanciare E che vogliamo lanciare Attraverso questo evento E che si avvicinino Per fare in modo Che cresca sempre di più E che si cresca soprattutto Nella consapevolezza Che bisogna Far conoscere Ai tanti Ai più Quello che Uggento è Quello che la tradizione Il cibo Le persone Sono della nostra comunità A tutti quanti i turisti Che durante il periodo estivo Per fortuna Abbiamo qui presente In Uggento Un'ultima domanda Presidente Per la prossima edizione Siete già al lavoro Avete un attimo di pausa Quindi Di certo Penso Non vi fermerete Vi concentrate su altro O possiamo già anticipare qualcosa Della prossima edizione? Beh abbiamo in mente Di fare dell'altro ovviamente Però Della prossima edizione Di sicuro La prossima settimana Ne discuteremo Perché abbiamo preso un po' di pausa È giusta È dovuta pausa E L'idea è quella Comunque di Ovviamente rifarlo E di farlo magari Ripetendolo In due mesi distinti Quindi Mese di luglio E mese di agosto Quindi fare in modo Che anche i turisti Che vengono in luglio Possano partecipare Così come quelli di agosto Per cui Magari ampliare Chiaramente le giornate E Con delle novità Ovviamente Su cui Già Già ci stiamo lavorando Su questo Sul Sul luogo e quant'altro Lo discuteremo È ancora troppo presto Per decidere Anche perché ripeto Comporta un po' di difficoltà Nell'organizzazione Soprattutto Perché abbiamo avuto Qualche richiesta Qualche esigenza particolare Soprattutto per I portatori di handicap Che Nel percorso Qui sotto il borgo Ha avuto delle difficoltà Quindi dobbiamo Comprendere Come poter attrezzare Per favorire anche I portatori di handicap Di poter partecipare A iniziative così importanti E quindi Trovare Chiaramente Le soluzioni Per fare in modo Che si possa svolgere In tranquillità E quindi Ecco la scelta Del luogo Dipenderà anche da questo Noi ringraziamo Il presidente Della Prologo Di Ugento Francesco Pacella Presidente innanzitutto Penso forse Di interpretare I sentimenti di tutti Quindi perdonatemi Di ringraziare Te e in te naturalmente Tutta la Prologo Per il lavoro Che fate In bocca al lupo naturalmente Per il futuro E grazie per l'intervista Che ci hai rilasciato Grazie mille a voi E ovviamente anche io Ringrazio tutti i soci Della Prologo Tutti i cittadini Che hanno partecipato E collaborato E vi aspetto Per la prossima edizione E sono fiducioso Che sarà una edizione Altrettanto straordinaria Grazie mille a voi Grazie mille a voi Grazie mille a voi Grazie mille a voi